Musica Io per l'Italia del 4-6-38 affermo che i carabini è il braccio armato del potere politico napoletano è il tarlazio, è l'esecutivo, è il braccio armato del potere istituzionale E Bertolaso? Bertolaso è un sottoprodotto del sistema Bertolaso è un sottoprodotto del sistema è un esecutore delle condanne criministe del territorio Bertolaso è comunque un tubetto di caramelle e charmes va bene per tutti i gusti è polivalente un certo Bertolaso che passa per un eroe nazionale deve sapere che Bertolaso il consigliere comunale Gaetano De Simona capogruppo al comune di Salerno 1993-1997 gli aveva chiesto di creare degli osservatori sui territori per la prevenzione del territorio gli vorrei ricordare che la legge 183-1989 legge per la sua destra non è stata mai applicata poi stranamente quando arrivano i morti i mandanti e gli esecutori sono sulle con la loro presenza aggiungono un altro fango sulle famiglie della vita è uno di questi che si chiama Bertolaso che l'avete quasi pianificato l'avete trasformato in patria pia siete la vergogna di un sistema umano universale punto l'avete trasformato in patria pia